Stiamo cercando di focalizzare non solo la cassa di risparmio ma anche l'impostazione, il pensiero delle singole persone alle quali vogliamo parlare su un tema molto importante, quale investire e gestire. Investire vuol dire fare degli investimenti, gestire vuol dire seguire gli investimenti, seguire anche con dei consigli. Nulla dura in eterno e soprattutto gli investimenti, bisogna sempre fare attenzione e se c'è un consulente forse è il caso per il singolo di dedicare la gestione o questa preoccupazione al consulente che è il suo lavoro e ognuno forse deve seguire al meglio le sue capacità e i bisogni del cliente altrui o della persona altrui. Quindi rivolgettili al consulente, non deve essere assolutamente cassa di risparmio, questo lo dico a tutti, è però importante che ci sia fiducia e che ci sia professionalità e lungimiranza da parte della persona che hai di fronte.